Buongiorno ragazzi, benvenuti nel nostro video di Nazareth e oggi ci facciamo il nostro primo giorno di mare Siamo venuti qua su Al Faro per vedere il tramonto, abbiamo cenato giù in centro in una vietta E' pieno di ristoranti di pesce, Nazareth è famosa per il pesce, tantissimi ristoranti fanno questi spiedoni di pesce alla griglia Che però vi cucinano proprio lì davanti sul barbecue in mezzo alla strada, è molto caratteristica Per venire qua sopra ne siamo venuti in macchina, però qua dietro c'è la funicolare Che si prende giù in paese e sali qui sulla scogliera e costa un euro l'andate Deve essere bellissimo anche salire, vedere tutto il tramonto Poi qua c'è qualche ristorante, c'è una vista stupenda Già che siamo qua a guardarci il tramonto, volevo approfittare per raccontarvi due cosine su questa città, su questo paesino E' molto caratteristico, anche se è abbastanza turistico, nel senso che è molto conosciuto Però è rimasto autentico, ovviamente sul lungomare pieno di negozietti, di souvenir, di ombrelloni, costumi, maglietti Tutti gli accessori vari, però nelle viette è rimasto molto autentico E oggi pensavamo quasi di rimanere una notte a dormire Perché poi è pieno di signore che affittano le loro camere E alcune anche col bagno privato per 30-40 euro a notte, considerate che siamo in agosto Quindi ci sembra un buon prezzo Trattate, trattate perché sono molto, sono molto trattabili Sì sì sì, anche perché da adesso dopo cena abbiamo visto che tante signore erano ancora lì Quindi magari al mattino vi dicono di no perché sperano in una cifra più alta Però poi magari la sera piuttosto che lasciare la camera vuota accettano anche delle cifre più basse Comunque 25-30 euro in agosto non è male Deve essere bellissimo Deve essere bellissimo magari poterle aiutare, non so, a cucinare qualcosa di tipico Oppure andare a fare la spesa Magari cucinare per loro Sarebbe carino magari anche andare a fare la spesa insieme a loro Perché qua all'entrata del paese c'è un mercato grandissimo di pesce, frutta, verdura Un mercato coperto che fanno tutti i giorni Ed è immenso, è bellissimo però Sì Questa è la spiaggia Allora questa è la spiaggia Però noi oggi siamo stati dall'altra parte Adesso vi faccio vedere dove Non so se oggi fosse piena Perché di là dove siamo stati noi era piena Non so se oggi era piena Ma ci sono anche delle specie di trotti E doveva essere bellissimo Allora dovete vedere il faro E c'è il sole che è appena tramontato E qua c'è tutto il faro Mamma mia si gela Fa veramente freddissimo C'è un'aria gelida Abbiamo letto perché si chiama Nazare Perché praticamente qua vicino è stata trovata la statua della Vergine Maria Che era stata recuperata nel IV secolo a Nazare Perché poi era nata perduta E quindi da qui ha preso il nome di Nazare la città Che figo Dice Andrea Che ovviamente noi ci perdiamo tra video e foto Non ci godiamo niente Il tramonto io era a fare il video Lui era a fare le fotografie Perché dove si va? Perché dove si va? Proviamo a scendere Oh mamma Dove si va? Che paura Il mare si finisce Proviamo a scendere È veramente impressionante da qua Troppo bello Poi il mare è mossissimo Cioè qua è proprio oceano Anche la spiaggia è stupenda Non so se si riesce a vedere Però tipo quando si ritira l'onda Vediamo Si vede che la sabbia c'è Tipo fino a qua Vabbè lo metto a poco il mio dito Però Fino a qui C'è la spiaggia E poi va subito Già picco Paura Nazareth è oltretutto E' famosissima Tra i surfisti Quest'anno Qualche mese fa L'avevamo scritto anche L'avevamo condiviso anche il video Garrett McNamara Che è un famosissimo surfista Chi poi si intende Lo conoscerà Qui è entrato nel Guinness Dei primati Per aver cavalcato Un'onda di 30 metri Magari in descrizione Vi lasciamo qualche link A qualche video E' proprio qua Si vede proprio questo faro Nel video C'è il mare Adesso A confronto Praticamente Pianto Ola 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 C'è un'occhia, c'è un'occhia, c'è un'occhia, c'è un'occhia. Comunque un tramonto così bello l'abbiamo visto veramente pochissime volte. Mi consigliamo assolutamente Nazarene, come entra nel tour ideale del Portogallo, entra assolutamente. Anche magari rimanerci un giorno o due a saporare proprio la tranquillità, la vita. Eh, quella è la spiaggia dove eravamo oggi, che è molto più affollata di quella di questa di qua. Questa è più selvaggia. Quella là invece è proprio una spiaggia cittadina. Però la cosa carinissima è che c'erano tutte queste tende colorate a righe che formavano quasi un quartiere. e la gente parlava col vicino. Era una cosa molto caratteristica. Portogallo è tutto, ci vediamo. Ciao ragazzi, al prossimo. Ciao, un saluto da Nazare.